Con il Presidente nazionale della FIAF parliamo di questo appuntamento, commentavamo con Pippo Fichiera, un appuntamento che cresce di anno in anno e registra sempre più presenze. Sì, questo è estremamente positivo anche perché sappiamo qual è la realtà del Sud per quanto riguarda le manifestazioni fotografiche ed è importante che il Sud possa avere un punto di riferimento in questo caso proprio alla manifestazione organizzata dal gruppo Legru, laddove ci si può identificare per far costruire un futuro migliore. Direi che questa edizione è diventata particolarmente importante, un autore assolutamente conclamato a livello internazionale come Maurizio Calimbrati che fa certamente la differenza. Poi tutto il resto è confermato e però dimostra una crescita. Se io penso ai primi portfoglio che visionavo alcuni anni addietro e faccio il confronto con quelli che si visionano quest'anno, il mondo amatoriale siciliano è cresciuto tanto. Fulvio Merlach e la Sicilia, ma anche il gruppo fotografico Legru, si può dire un binomio ormai indissolubile? Non so se è proprio indissolubile, nel senso che io ormai a questo punto qua sono quasi in scadenza di mandato, ancora due anni e poi non sarò io più il presidente della FIAF per cui poi deciderà il gruppo Legru cosa fare. Io in Sicilia ci vengo sempre molto volentieri, è una terra meravigliosa e non lo scopro certamente io, ma mi ci trovo in modo meraviglioso. Avete delle caratteristiche che forse manco voi siete coscienti di quali siano, siete ospitali, siete carini, siete bravi e ovvio che non si può non venire volentieri in Sicilia.